Buona giornata da Nikos Chiodetto, una giornata di mercoledì che vedrà un rinforzo dell'alta pressione delle azzorre su gran parte dello stivale. Difatti i massimi di pressione saranno tra la Spagna, la Francia, Germania, passando anche per le nostre regioni centrosettentrionali, si sposta ulteriormente verso Levante, verso la Grecia, la Turchia, la massa di aria fredda con la sua instabilità e le nevicate a quote basse. Andiamo difatti a vedere questa mappa delle precipitazioni, una bella giornata su tutto lo stivale, migliora anche al sud. In sintesi la grafica dell'Italia per farci vedere come sarà una bella giornata su tutto il centro nord Italia e la Sardegna, cieli sereni o poco nuvolosi, residua variabilità sul basso Adriatico, Calabria, nord Sicilia ma senza precipitazioni da segnalare se non qualche piovasco, non esclusa ancora sul Salento ma è miglioramento. Temperature rialzo al nord Italia, Toscana, Lazio dove sfioreremo in molte zone i 17-18 gradi. Ulteriori dettagli, approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.